Mi chiamo Dina Paonessa, arrivo da Ivrea, una piccola cittadina lontana da Torino. Avevo già degli impianti, ma questi erano molto difformi tra di loro, sia per colore che anche come lunghezza dei denti. Beh, naturalmente questo mi procurava un grande dispiacere, oltre che disagio, perché pensavo che le persone, quando magari incontravo qualcuno o ricevevo anche a casa o sul lavoro, le persone si focalizzassero non sulla mia persona, ma la loro attenzione cadeva naturalmente sulla mia bocca. Cos'è che ho rinunciato? Ho rinunciato a una vita sociale, perché avendo questo tipo di difficoltà, naturalmente non potevo relazionarmi. Beh, mentre che mi fai questa domanda mi verrebbe voglia anche di far scendere una lacrimuccia, perché ieri, mentre mi fissavano i definitivi, mi sono commossa, in quanto il calvario, naturalmente, che ho dovuto sopportare in tutti questi anni, in un attimo è scomparso. Però, certo, ho trovato la gioia di vivere. Praticamente mi hanno fatto sei impianti, sopra, tra cui due pterico. Poi, invece, per quanto riguarda l'arcata inferiore, mi hanno mantenuto una parte dei miei denti e sono intervenuti sui premolari e molari, mettendomi quindi tre impianti a destra e tre impianti a sinistra. Per quanto riguarda le mie paure, era il fatto di dover venire in una nazione con una lingua diversa dalla mia, ma che poi ho superato brillantemente, perché una volta che sono arrivata qui, ho trovato tantissime persone, veramente, che arrivano da tutte le parti del mondo e si è come in una famiglia. Lasciate da parte la paura, perché la vita è troppo bella e aprire la bocca per un sorriso meraviglioso, che comunque vi farà ritornare quasi bambini, soddisfatti e gioiosi, ne vale veramente la pena. Continuerò ad aprire la bocca anche quando non lo devo, per cui continuerò a sorridere per ogni piccola cosa.